Ciao ragazzi, oggi parliamo di temi ibridi e di come questa tipologia di approccio allo sviluppo di temi può essere molto interessante per noi che facciamo temi WordPress. Quanti magari fanno temi, hanno sviluppato qualche tema? Yes. Quanti sanno cos'è un tema ibrido? Bene, bene, bene. Ok, allora partiamo. Partiamo un attimo dal contesto. WordPress si è evoluto molto negli ultimi anni, ma in realtà se facciamo un attimo un passo indietro si è sempre evoluto tanto. C'è stato un periodo dove l'editor non è cambiato tanto per un po' di anni, ma in realtà qua abbiamo la versione 1, la versione 2, la 2.3, la 5 e la 6, l'ultima col full site e possiamo vedere come WordPress è proprio cambiato. Io ho incominciato con la 2, quella blu, sono molto affezionato a quella versione. Quindi perché WordPress è cambiato? È cambiato perché è cambiata l'esigenza un po' che hanno chi fa siti web e chi pubblica contenuti online. Le esigenze sono di avere più flessibilità nei contenuti e di avere più velocità di esecuzione. Per esempio se noi facciamo una landing page per una campagna su Facebook, su Google, abbiamo la necessità, nel caso la campagna vada bene o vada male, di cambiare il contenuto. Magari ti chiama l'advertiser e ti dice guarda non funziona questo schema, questo copy, questa immagine, cambiamolo. Prima dovevamo fare tutto via codice, poi pian piano sono nati strumenti come i page builder e poi siamo arrivati a Gutenberg e il full site editing appunto per questa esigenza, cioè di cambiare il contenuto in maniera veloce e avere flessibilità nel layout delle nostre pagine. Qual è il problema che abbiamo adesso con questa evoluzione che c'è stata? Il problema secondo me è che dai temi classici il passaggio al full site editing non è soft, non è tranquillo, dobbiamo fare un passaggio brusco, cioè prendere tutto il modo nel quale facevamo prima temi con PHP, un certo tipo di file, un certo tipo di struttura del tema, buttarlo via, passare a JavaScript, cambia tutto, cambiano le logiche, quindi questo cambio fa un po' paura ed è un po' un salto nel buio. Quale può essere la soluzione? La soluzione, logicamente, potrebbero essere i temi ibridi. Che cosa sono però i temi ibridi? Qui abbiamo un tweet di Ellen Bauer che quando è uscito mi ha fatto, mi ha molto colpito perché su Twitter lei, su X, perdon, ha scritto che la nomenclatura dei temi era parecchio confusa, c'erano i FSC Teams, i Block Teams, come si chiamano questi nuovi temi. Oggi cercherò di fare un po' di chiarezza. I temi che possiamo avere oggi in WordPress sono principalmente tre. Abbiamo i Block Team, quindi si chiamano Block Team, non FSE Team, e sono quelli nuovi con il full site editing, con il site editor, gli stili globali, quelli nuovi fatti in JavaScript. Poi abbiamo i temi classici, che sono i soliti quelli fatti in PHP, col customizer, che abbiamo sempre utilizzato. E poi abbiamo i temi ibridi, che sono fatti in PHP, però hanno la possibilità di attivare, quando e sulle pagine che vogliamo, il full site editing. Vedremo dopo come farlo e vedremo dopo perché questa soluzione, secondo me, è molto interessante. Poi ci sono, li cito, giusto per anche qui cercare di fare chiarezza, gli Universal Team, che sono un tentativo di unire classic e Block Team, non con lo stile dei temi ibridi, che vedremo adesso, ma con un altro stile, che però, diciamo, non è, non ci sono temi così sulla repo ufficiale, e quindi, diciamo, che non, ve lo dico solo che esistono, però non sono sulla repo ufficiale, sono temi probabilmente che scompariranno. Ok, quali sono i vantaggi di utilizzare temi ibridi? I vantaggi sono che abbiamo lo sblocco di alcune funzionalità in Gutenberg, che sono molto interessanti, come gli spazi, i margini, la possibilità di avere più opzioni nella tipografia, e la possibilità, attraverso il full site editing, di gestire header e footer in maniera separata rispetto al resto del sito, e sostanzialmente abbiamo la funzionalità del full site editing dentro il nostro tema solo dove vogliamo. È più facile poi creare template e pattern, ok? Questa è una conseguenza. Gli effetti collaterali cosa sono? Che, avendo questo approccio, il passaggio dal tema classico al tema full site è molto più soft, possiamo appunto attivare il full site solo dove vogliamo, possiamo prendere dimestichezza col full site editing, se abbiamo problemi possiamo comunque utilizzare sempre PHP. Adesso vedremo come si fa, però è veramente bello poter dire su questa pagina voglio il full site editing o l'header e footer a blocchi, su quest'altra pagina voglio il solito sito, stesso header, stesso menu. Come si crea un tema ibrido? Praticamente se vedete qua abbiamo la classica struttura in PHP di un tema classico, però evidenziati in rosso ci sono un po' di cosine nuove. Abbiamo il team.json che sostanzialmente è il cuore del full site editing e questo magari lo conoscete e abbiamo poi la struttura di file che se avete provato a fare un tema a blocchi, un block team, è quella dei block team, quindi abbiamo dei file .html sostanzialmente al posto del PHP. Questo mi ricordo che la prima volta che l'ho visto ho aperto un block team solo HTML, ti si gela un po' il sangue, però messo già così, già ti fa meno un po' paura, c'è PHP, quindi riusciamo a fare qualcosina ancora. Andiamo a vedere cosa fanno i file, adesso pian piano andiamo a vederli tutti. Il team.json va inserito nella root del nostro tema ed è un file di configurazione, adesso vediamo cosa ha il suo interno e serve a fare un sacco di cose all'interno di Gutenberg. Poi abbiamo due cartelline, la parts e la templates. Nella templates abbiamo i template, quindi è un classico template di pagina che si chiama page no title. Nella parts abbiamo footer e header, quindi saranno i due elementi che vediamo sopra e sotto nel nostro template. Cosa cambia in WordPress quando andiamo a fare queste cose qui? Quando andiamo a inserire questi file qui e il team.json soprattutto, perché è lui che dà la configurazione a Gutenberg, si attivano tante cosine belle che prima non c'erano. Per esempio abbiamo la possibilità di settare padding e margin per tantissimi blocchi, non per tutti ma per tanti. Abbiamo la possibilità di andare a avere opzioni di tipografia, bordi arrotondati, per esempio la cover possiamo mettergli bordi arrotondati, questa è una cosa che se non andiamo ad attivare il team.json nei temi classici non c'è. Poi abbiamo il colore del bordo, la spessore del bordo, un po' di colori avanzati per alcuni blocchi e poi abbiamo questa fantastica, fantastica, ce l'ha, eccolo qua, questa fantastica voce edit template che è un po' magica che andiamo a vedere dopo, che logicamente senza quei file là opportunatamente settati non è visibile. Ok, entriamo un po' nel vivo, andiamo a vedere com'è la struttura, qua magari sono un po' davanti, qual è la struttura del team.json. Il team.json qui ha le varie sezioni, le macro sezioni collassate, quindi era aggruppato, ha questa struttura, la prima chiave che è la versione, utilizziamo la 2, dovrebbe essere l'ultima, non sono sicurissimo ma credo sia l'ultima. Poi abbiamo la voce settings con dei settaggi generali, la voce styles con degli stili, la voce custom templates e template parts dove andiamo a definire delle, a richiamare i file che abbiamo creato prima nel nostro tema. Questo qua è la prima parte, la sezione settings. Abbiamo nella sezione layout le possibilità di definire la larghezza del content, la larghezza dell'opzione wide, gli appearance tool true che sono un attributo fantastico che attiva un sacco di funzionalità che abbiamo visto prima nel Gutenberg e poi abbiamo la sezione spacing con padding margin inattivati e è molto figo il fatto che possiamo passargli le tipologie di units che vogliamo, per esempio VH, io lo uso tantissimo per fare cose sul mobile che si ridimensiona in maniera automatica. Andiamo avanti, no sono andati indietro, andiamo avanti, ci sono, ah no è giusto, ok scusate. Attivando i padding e i margin, come abbiamo visto nello style, cosa succede? Succede che appaiono, per esempio qui vedete ho un H2, vado a cambiare un po' il padding, il margin e avendo attivato quegli, quel appearance true, quel voce lì che, appearance true, sì, praticamente ti va ad attivare anche i bordi e il radius sul blocco cover. Ecco qua, qua abbiamo invece la voce style che è un pochino più tosta, ok? In realtà prima della voce style vi faccio vedere la typography dove semplicemente andiamo ad attivare le opzioni di typography, quindi gli dico che voglio l'opzione line 8, il font style, il font weight lo metto false perché sennò ti mette tutti i pesi dal 100 al 900, ti viene uno spatafione così e quindi diciamo che quel font weight lì in realtà su false non è che ti disattiva la possibilità di metterlo boldato, ma ti va a disattivare tutte le varie opzioni dal 100 al 900, ti rimangono quelle standard, 400, 700 e forse uno un po' più piccolina. Nella sezione font size possiamo definire delle grandezze di default dei nostri testi, abbiamo extra small, lo small e avanti così, quindi ho già dentro Gutenberg delle grandezze predefinite, nella voce style vado a definire le grandezze standard di Gutenberg, quindi gli dico ok voglio un font size e mi vado a pescare la variabile del font size che ho definito prima che è un REM, quindi a livello di body in Gutenberg avrò l'URM su tutti i paragrafi, poi ho il font family, il line 8 di default, negli elements vado a definire invece la grandezza in REM, in questo caso dei miei elementi H1, H2, H3 fino all'H6 di Gutenberg. Ok, un po' di difficoltà con questa pennetta, andare avanti e indietro. Quindi cosa succede? Attiviamo tutte le varie variabili nella typography e il risultato è questo nel browser, cioè abbiamo la size dove vado praticamente a impostare la grandezza, line 8, font style, text decoration, letter case, quindi tutto un sacco di opzioni. Nella destra qua si vede, sono un po' davanti, si vede che vado a mettere un extra large e vedete mi fa il testo gigante. Ok, ma come faccio ad attivare il full site editing solo nelle pagine che voglio? Adesso lo andiamo a vedere. Nel fantastico page no title che abbiamo definito prima, andiamo a inserire dei blocchi classici di Gutenberg. Se non avete ben presente questa sintassi qua, se inserite dei blocchi in Gutenberg e andate a visualizzare il codice, vedrete che avete questa sintassi in HTML. Diciamo che la documentazione su questo aspetto dei block team non è proprio super avanzata. C'è un fantastico sito che si chiama fullsiteediting.com dove invece c'è molto più materiale, vi consiglio di dargli un occhio. Andiamo a vedere brevemente cosa abbiamo? Abbiamo wp-temple-part che semplicemente ti va a richiamare l'header, poi abbiamo un blocco wp-group con dentro il post-content e poi abbiamo il footer, quindi questo template-part mi va a richiamare quel footer.html. Andiamo a vedere ora che cos'ho in header.html. In header.html ho un blocco gruppo che mi fa praticamente l'header e gli do anche un colore col background color grigetto. Poi ho dentro un altro gruppo che invece ha una larghezza più piccola e dentro questo gruppo qua ho il logo e la navigazione. Quindi questo è il nostro header, super semplice, impostato con 3-4 blocchi. Andiamo a vedere il footer. Il footer anche questo ha un blocco gruppo e dentro ha un paragrafo con i crediti e i social, i link ai social. Questi sono tutti i blocchi standard di Gutenberg. Quindi io sostanzialmente di default dentro i miei file, del full site editing, header e footer ho questi elementi. Navigazione, logo, crediti e social. Il risultato cos'è? È che praticamente mi appare questa voce edit template di cui vi parlavo prima, che è molto figa perché praticamente io vado su una pagina nuova e ho tutti i miei template magari anche in PHP, adesso poi magari vi faccio vedere nella demo. Praticamente quando vado a selezionare un tema full site appare questa voce qua. Sui template PHP, quelli diciamo vecchio stile, non abbiamo questa voce qua. Questa voce qua appare solo se abbiamo il template supporto al full site editing. Se vedete qui, io adesso qua non si vede benissimo, dopo c'è il video si vede meglio. Praticamente vedete che ho, adesso qua ho già aperto il full site editing, però quando riparte la GIF sostanzialmente io vado a selezionare nella voce classica dove vado a prendere i page templates, qua adesso, l'ultimo, PAM Edit Template e mi apre il full site editing. Se clicco sull'header, modifico l'header. In questo caso vado a modificare qualcosa nel menu e poi posso andare a modificare il footer, se no una volta che ho selezionato questo template posso semplicemente andarmi a modificare il content e header e footer rimangono quelli di default. Qual è il risultato? Adesso qui voglio, ok bello, ma qual è l'applicazione pratica di tutta questa roba qua? Perché secondo me è figo sta roba? Ho avuto proprio settimana scorsa un caso dove sarebbe stato ideale utilizzarlo, solo che l'aggiornamento del mio tema Next Awards che è free, vi consiglio di scaricarlo sulla repo, ieri abbiamo passato le 500 installazioni attive, quindi siamo tutti molto contenti. Praticamente, no adesso parte gli scherzi, la differenza qual è? La differenza è che io quando attivo il full site editing con il template ho praticamente la possibilità di cambiare header e footer, ho un sito completamente diverso. Se voi immaginate per esempio questo cliente che ho avuto, una catena di pizzerie, l'ho raccontato un po' ai ragazzi qua anche ieri e oggi, abbiamo il sito normale, poi abbiamo delle attività di pubblicità su Facebook che mandano il traffico su una landing page. Nella landing page io non ho bisogno di avere chi siamo, servizi, shop, non ho link, non ho bisogno di un link che mi portano fuori dalla landing, ho bisogno dei link che se clicco mi fanno scrollare, mi fanno leggere la landing, no? Quindi ho sostanzialmente bisogno di un header completamente diverso dal resto del sito. Prima del full site editing, sta cosa qua, come la facevi? Andavi col codice, facevi un bel lift nel header, se sei sulla pagina con il D della landing, mostrami questo menu e dovevi andare a fare un custom menu eccetera. Adesso col full site editing ti basta selezionare il template, vai a cambiare il menu e hai subito praticamente pronto senza fare codice la tua bella landing con il menu diverso. Quindi questo è un caso di utilizzo secondo me molto esplicativo perché ti fa capire le potenzialità. Poi le potenzialità sono anche logicamente che puoi cambiare, l'header puoi anche tirare via il menu volendo, puoi mettere un logo diverso, puoi fare quello che vuoi. E la cosa figa è che puoi attivarlo solo sulle pagine che vuoi attraverso la selezione del template e tutto il resto del sito rimane uguale. Qui c'è il video, ah prima un attimo una cosa, qui ci sono due risorse. Per i più smanettoni c'è un bello starter team che si chiama Bstarter che è uno starter team abbastanza complesso, tosto, però è un tema ibrido fatto bene, secondo me ha un sacco di recensioni positive su GitHub. Poi c'è Next Awards che invece è il mio tema, dice installazioni 400 invece sono 500 da ieri e vi consiglio di scaricarlo, è molto semplice se volete imparare anche ve lo scaricate, vedete un po' come è strutturato, l'alberato è quella che abbiamo visto prima, quindi è molto semplice e è un tema che mi sta dando parecchie soddisfazioni perché lo sto utilizzando su tutti i miei lavori, su tutti i miei nuovi progetti e tanti ragazzi lo stanno utilizzando anche all'interno delle varie community e siamo tutti, ho anche tanti feedback, vi consiglio di dargli un'occhiata. Vi faccio vedere come funziona all'atto pratico, ok, perché in bassa risoluzione? Vabbè, in bassa risoluzione però si vede. Qui creo il titolo, metto un testo di prova, eccolo qua in hd, perfetto, page, default template, adesso metto il template blank, vedete non c'è edit template, vado giù, metto page full, edit template, clicco, boom, mi apro il full site editing e qui ho header, menu e adesso vado a modificare qua, in questo caso vado a cambiare il logo, giusto per fare un'operazione, qui vado a prendere un altro logo, è praticamente uguale, però giusto per fare un esempio, cambio il logo, un po' più grande e poi pubblico, una volta che pubblico sto pubblicando l'header, non sto pubblicando il contenuto, questa è una cosa importante da capire nel full site editing, in quella versione lì, io sto lavorando sull'header e tutte le pagine del sito che hanno questo template selezionato cambieranno il logo, questo è un punto importante, è chiaro, perché facendo diciamo la modifica in modalità full site, logicamente tutti i template che hanno impostato, tutte le pagine che hanno impostato quel template cambieranno l'header. ok, ok, ritorno qua e vi faccio e concludiamo, quindi WordPress si è sempre evoluto, adesso abbiamo un salto evolutivo molto notevole, con i temi ibridi possiamo diciamo provare il full site editing, prendere dimestichezza con questa nuova tecnologia senza fare questo salto nel buio che diciamo cambiamo totalmente tecnologia, cambiamo tutto all'interno del nostro flusso di lavoro e quindi spero che li proverete, magari mi fate sapere se vi sono piaciuti, grazie. Ottimo, abbiamo dieci minuti quindi potete fare una serie di domande. Facciamo anche una demo magari, spacchiamo tutto. Ciao, ti volevo chiedere a livello di prestazioni, come il classic team o più come FSE? Beh, sai che bella domanda, diciamo che a me sembra che sia molto, diciamo che questa approccio non vada a cambiare molto a livello di prestazioni, cioè se il tuo sito già ero timido, eh? Sì sì, ho fatto, cioè adesso diciamo non ho tantissima, come ti dicevo è una cosa molto nuova, quindi non ho tantissimi casi studio, però nei vari test che ho fatto mi sembra molto performante, non penso, magari un pochino perdi, non lo so, tu hai fatto dei test, ma con che tema? Con il tuo? Rallenta back o front? Il front? Sì? Guarda, interessante, poi lì... Sì, diciamo che, adesso parliamoci chiaro, una volta che cache tutto, se hai dei problemi di questo tipo qua, no? Che lui ogni volta a livello back va a fare delle operazioni, almeno non so voi, ma io in tutti i miei progetti ormai adesso ho un sistema di cache che davanti a questo tipo di problemi ti va un po'... Sì sì, no, sicuramente è un po', però alla fine il cache, c'è il sistema di cache se hai un hosting ce l'hai sempre, quindi, sì, per i puristi. Sai che, io ti dico, non sono super schillato dal punto di vista di caching, perché il caching è un argomento infinito, però ti dico i classici hosting che sono anche sponsor qui o così, devo dire che ormai i sistemi di caching mi sembra che funzionino tutti abbastanza bene. Poi, se vai magari su server custom, dove ti sei tu settato un po' più le cose, lì magari sarebbe interessante capire magari su che server l'hai testato, che tecnologica... Eh, poi me lo fai vedere, dai, volentieri. Ok. Ciao, volevo chiederti, secondo te si può ibridare un tema classico? Cioè, rendo ibrido un tema classico attraverso un child, senza andare a toccare il tema originale, ma creare un child che mi rende poi, col full site editing utilizzabile, ibrido. Sì, bella domanda. Credo proprio di sì, bisognerebbe fare un test. Però per come funziona la logica di WordPress, in teoria sì. In teoria sì, perché comunque quello che tu c'hai nel child viene comunque poi eseguito dal... cioè, WordPress lo esegue come se fosse un tema. Quindi in teoria sì, secondo me sì. Poi magari anche su questa facciamo... Poi magari me lo dici, facciamo un test, proviamo. Oppure va bene, nel senso, se no mi iscrivi, ti dico se è bene. Ok, no, no, ok. Abbiamo altre domande? Ecco. Ciao, senti, volevo sapere, ma nel mio vecchio file header.php, posso richiamare l'header che mi salvo col full site editing? Sì, però non ti consiglio di farlo. No, così, per sapere se la cosa è possibile. Sì, sì, tu puoi, tu puoi con una funzione che adesso non mi ricordo, inserire praticamente qualsiasi blocco di Gutenberg che vedi con la sintassi, quella con i commenti in HTML, lo puoi inserire in PHP. È un approccio... Ti ricordi i temi universal del quale parlavo prima? È un po' questo mondo qua. È un po' un mondo, diciamo, che con questo approccio che ti ho fatto vedere abbiamo una divisione netta, cioè tu metti un template e quello è full site e l'altro invece è classico. Con un approccio così dove vai a mischiare, sicuramente è interessante, però io, non so, cioè, attesterei bene prima di farlo, ecco. Però è possibile, è possibile. Bene, grazie. Figurati. Quante domande tecniche, ragazzi, che livello! Bravi! Bene, bene. Altra domanda? No. Ti ringraziamo. Bellissimo top. Grazie, grazie ragazzi, grazie.